Siamo arrivati a un momento in cui la squadra ha pensato di dover fare un ultimo estremo atto che secondo me è un grande atto d'amore, il tentativo di muovere finalmente, di bloccare questi personaggi che si stavano continuando a prendere in giro e di provare ad alimentare l'unica vera possibilità che c'è rimasta che è quella appunto del fallimento concordato, insomma del pilotato dove quindi un curatore fallimentare possa fare finalmente le veci del presidente e di portare avanti una situazione da quel punto di vista perché a oggi ci sono solo io e la squadra e quindi la difficoltà sta proprio in questo, nell'avere la testa giusta per fare il nostro lavoro quello che chiedono i giocatori, che chiedo anch'io è di avere le condizioni minime per potersela giocare sappiamo che abbiamo una penalizzazione grossissima che arriverà probabilmente se non sistemeremo le cose ne verrà un'altra anche a marzo, quindi per noi è veramente improbo e il risultato del campo a questo punto diventa anche quasi marginale, quello che conta è dare una continuità tecnica per poter fare questo e i ragazzi hanno fatto questa mossa per cercare appunto di velocizzare il più possibile questo se abbiamo delle risposte, se hanno delle risposte concrete, fatte da persone che si espongono in maniera concreta vera, reale, non come adesso abbiamo avuto solo fantasmi, solo menzogne i ragazzi sono i primi a voler fare qualcosa e a voler andare avanti, i primi e non voglio appunto che in questo momento magari poi sembrano quasi diventare noi colpevoli eventuali di una situazione noi siamo le vittime insieme ai tifosi veri, siamo le vittime di questo sistema di questo modo in cui è stato gestito l'Arezzo però abbiamo nella possibilità di bloccare e di andare a sensibilizzare la Lega i ragazzi hanno trovato il modo di fare un qualcosa che potesse smuovere smuovere le coscienze, smuovere le persone nel loro operato e questo è quello che abbiamo fatto il rinvio secondo me è la scelta migliore perché noi non avevamo sicuramente la testa per fare una gara così importante con il Livorno e in qualche maniera magari non ha lo stesso valore ma avremmo comunque falsato una partita in questo momento quindi l'invio secondo me è stata la scelta più logica e più giusta che potesse fare la Lega per far sì di avere dei tempi necessari perché si inizi l'iter burocratico che è quello che chiedono i ragazzi una volta che questo iter burocratico avviene i ragazzi saranno anche più sereni e potremo preparare le prossime partite da qua a quelle che succederanno anche se non sarà così semplice perché già la trasferta di Olbia è una trasferta che richiede degli investimenti per andarci quindi abbiamo alberghi, abbiamo aerei o nave ancora oggi non lo si sa io vorrei far capire anche la difficoltà in cui viviamo perché abbiamo dei ragazzi che hanno dovuto lasciare degli appartamenti si sono riuniti in 4-5 in altri appartamenti in quelli che magari possono ospitare abbiamo difficoltà nelle cure mediche nella carta per fare i massaggi, nel detersivo per lavare la roba quindi siamo a livelli limite per fare questo sport che a nostro livello è uno sport professionistico quindi non ci sono le condizioni per poter fare noi vogliamo ripristinare almeno la speranza che queste condizioni possano venire per poterci giocare come abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre dimostrato perché le ragazze le hanno sempre fatto di andare in campo e di poterci giocare le nostre chance con la testa giusta